Da Inno Living arriva Age Stop, la tecnologia per eliminare le rughe e donare un aspetto fresco e giovane al tuo viso. Grazie ai micro impulsi otterrai un effetto lifting altamente professionale e assolutamente non invasivo con l'utilizzo delle due placche, una per l'applicazione mirata su contorno occhi e bocca e l'altra per tutte le aree più ampie del viso. Inoltre, inumidendo la pelle otterrai un maggior effetto di stimolazione del collagene naturale ed utilizzando una crema anti-age ne moltiplicherai l'effetto, favorendo così l'assorbimento in profondità attraverso la piacevole e rilassante funzione di vibrazione. Age Stop, professionalità a portata di mano.